Come sempre scopriamo il massimo livello di impreparazione. Scopriamo per esempio che nessuno si preoccupa di quello che sarà delle scuole, che io credo prudenzialmente andrebbero immediatamente chiuse, perché sono il primo luogo dei veicoli del contagio. Scopriamo che gli ospedali, in Lombardia, quello di Lodi, non hanno neppure le mascherine. Scopriamo che il paziente è stato trasferito al sacco di Milano in un'ambulanza che nessuno sta pensando di decontaminare, visto che le superfici vengono contaminate. Insomma, siamo all'anno zero. Quello che accadrà ancora nessuno lo sa, ma certamente quello che tragicamente possiamo dire è che siamo all'inizio di un inizio, ma non di una cosa bella. È il momento che ognuno assuma le sue responsabilità. Altro che far arrivare, come in Toscana, 2.500 arrivanti dalla Cina senza nessuna cautela. Siamo alla follia totale.